Ciao bentornati su Metalurbex 79 oggi stiamo facendo una bella passeggiata in mezzo ai campi stiamo andando a Villa Elisa che non so se si arriva a vedere laggiù in fondo in mezzo alla boscaglia c'è un tetto una villa del XIX secolo adesso faremo un giretto col metal detector fuori tra i campi e il bosco e magari faccio due panoramiche dopo per farvi vedere com'è l'esterno della casa perché l'interno è un po' diroccato quindi dubito se arrivi a entrare comunque ci vediamo dopo fate i bravi e seguitemi